Grazie a tutti Ho accettato la sfida del creeper nucleare contro l'ender dragon Allora io vi faccio solo vedere una cosa solo per farvi capire Ho dovuto fare un piedistallo per far salire il creeper qui là sopra Perché se no non avevo veramente idea di come farli scontrare Comunque io ho citato questa sfida e cercherò di fare il possibile Non ho visto cosa subisce, quanto subisce l'ender dragon dall'esplosione del creeper nucleare Ma lo vedremo insieme Se avete sfide impossibili da proporre scrivete nei commenti Hashtag sfide impossibile e proponetevi la vostra sfida Potete anche propormi, dato che queste sono sfide moddate Potete propormi per esempio anche sfida spada diamante, affilatezza, acutezza 10 Contro wither un colpo, quanto danno gli fa Oppure per esempio, che ne so, creeper nucleare contro ossidiana Queste cose qui, poi il commento con più like, io lo sceglierò e accetterò la sfida impossibile che mi avete proposto Questa sembra veramente una di quelle sfide impossibile, impossibile interamente Non credo sia fattibile far arrivare lì il creeper senza farlo morire Noi ci proverremo Comunque a 50 like a questo video io farò la prossima sfida impossibile Quindi giù con i like iniziato a spollicare il brutto Allora io direi di procedere Facciamo uscire il nostro creeper che non ci caga più di striscio Quindi dobbiamo passare in survival Ok ci caga, non facciamo solo esplodere Ho disattivato la scorrettezza nemici Quindi non farà l'esplosione, cioè non si vedrà danno al terreno Bensì concentreremo tutto sul drago Quindi noi continuiamo a boostarlo, dandogli vita sperando che il drago Allora, quando si mette in quella posizione noi dobbiamo portare il nostro creeper là sotto E farlo esplodere Per farlo esplodere basterà avvicinarci e lui esploderà Però fino a quel momento dobbiamo fermarlo lontano al piedistallo Perché il drago scuta di fuori Ecco quella roba lì Corri stronti Corri, corri, corri Corri, corri, corri dai esplodi, esplodi, esplodi Oddio ragazzi Oddio La vita era piena Guardate adesso quanto ha Cioè un colpo dovrebbe morire teoricamente Cioè ragazzi gli ha levato tutta la vita praticamente Cioè portatevi un creeper nucleare prima di finire Ok due colpi e moriva Con la spada Immaginate con un arco Ragazzi abbiamo ucciso l'Ender Dragon con un creeper Ce l'abbiamo qua Siamo riusciti a fare Non mi chiedete come e quanto ci ho messo a portare il Stop Il creeper qua dentro perché E' di chiama Comunque abbiamo conquistato il nostro uovo Abbiamo ucciso il creeper Non l'abbiamo ucciso in un colpo Quindi Comunque siamo riusciti a fare la sfida Stavolta Si vince comunque l'Ender Dragon Però il creeper nucleare ha fatto la sua bella figura Quindi Iniziate a commentare scrivendomi le vostre sfide Iniziate a proporre le vostre sfide Io vi ringrazio tantissimo per il coinvolgimento che state facendo E che state apprezzando tantissimo questa serie Trovate comunque nella sezione delle playlist La playlist con tutte le sede impossibili che ho fatto per il momento Vi invito a passare e a vedere quelle precedenti del creeper nucleare contro il Wither Per sapere come è finita E quindi noi ci becchiamo nel prossimo video E quindi Bella